Benvenuti a tutti gli amici di Music Off, siamo qui da Tommassone Roma, io sono Davide Tommassone in compagnia di Giacomo Masquali e siamo qui per raccontarvi una storia, una storia bellissima, una storia che parte nel 1909, è la storia dell'uomo che ha messo la firma qui, parliamo di Leo Fender, 1909-1991, quindi siamo a oggi a 110 anni dalla nascita e ci sembrava bello ricordarlo e ricordare i suoi prodotti partendo però dalla sua vita, dalla sua storia, da quello che lo ha portato a inventare quella che è considerata la chitarra elettrica per eccellenza. Mi piace ricordare che qualche anno fa in un'intervista Sergio, mio padre, quando gli chiesero cosa pensasse di li offendere, che cosa immaginava di li offendere, con una non invidia ma piacevole invidia e ammirazione, ha sempre detto sarei voluto essere io ad inventare uno strumento così meraviglioso come Telecaster, come Stratocaster, come gli altri prodotti. Sentiamo un secondo, diamo un'idea di quello di cui stiamo parlando, anche se le conosciamo tutti noi, però abbiamo tra le mani un paio di prodotti che rappresentano l'inizio della sua produzione. Questo che abbiamo sentito è un Esquire, una Telecaster, in fin dei conti, ma anche un pick-up, alcune variazioni sul tema. Però ritorniamo alla storia dell'uomo, perché è da lì che parte tutto. Le Offender nasce nel 1909 da una semplice famiglia di contadini che contavano arance, proprio nella zona, nell'Orange County, dove adesso a Danai mi c'è ogni anno il NAM, la festa, la fiera dello strumento musicale per eccellenza nel mondo. E bambino, ragazzo, uomo, molto curioso in un momento rivoluzionario con l'avvento dell'elettronica, l'elettrotecnica, studia e si mette subito a cercare di mettere le mani su quelli che erano i giradischi, su quello che era la musica in quel momento. Quindi i primi amplificatori, c'è un suo primo ampli famosissimo, le riparazioni, il suo baracchino con cui andava a fare Pia System, amplificazione con le trombe. Andiamo indietro di quasi cent'anni fa. Quindi vi invito a non guardare queste chitarre, questo mondo che andremo ad affrontare con gli occhi di oggi, la storia la sappiamo già tutti. Ma tornate indietro, pensate ad immaginare, cosa vuol dire, per un ragazzo di vent'anni, poco più di vent'anni, venticinque anni, aprire un negozio con la vendita dei dischi, la vendita degli spartiti e incominciare ad avere delle persone che vengono, che suonano la chitarra e che vogliono suonare più forte. Il problema è il microfono, questa cosa spaziale, che oggi per noi è una roba vecchia, semplicissima, un bobino avvolta su un magnete, ma che all'epoca era l'inizio dell'elettronica, era l'inizio dell'elettrotecnica. E proprio da lì parte Leo Fender, parte realizzando un microfono da montare su all'epoca, era una chitarra marta, una chitarra acustica, per ridurre il rischio di feedback, per fare in modo che questa persona, questo chitarrista potesse suonare forte. E di lì comincia la sua sfida. Leo Fender non è un chitarrista, ha studiato a scuola, saxofono, tromba, pianoforte, ma non suona la chitarra. E ci fa pensare un pochettino, scusate ma non posso fare a meno di ricordare la storia di Sergio, mio padre, anche lui non suona la chitarra. In realtà ha la passione, la curiosità, questa cosa che forse oggi un po' manca a tutti noi, ma la curiosità, la voglia di crescere, di fare bene e di ascoltare le esigenze dei musicisti. E da lì nasce la prima chitarra elettrificata, una Martin, con il microfono. Poi da lì partono tutta una serie di incontri. Un mondo incredibile, quello del momento, c'era Bigsby, che oggi noi conosciamo tutti per l'uomo che ha inventato il tremolo più, con la molla più grande dell'universo, ma che all'epoca collaborava con Leo Fender, si vedevano, si trovavano brainstorming, cambio di opinioni, quindi si raccontavano le cose, citavano i musicisti, dobbiamo fare, dobbiamo fare, dobbiamo fare, e da lì un po' alla volta è incominciato l'avventura di Leo Fender. Curioso, con voglia di fare, con qualche socio, Kaufman prima, poi Kaufman ha lasciato, adesso non stiamo a riprendere tutti i nomi perché è una parte della storia che può essere interessante, ma non andrei nei dettagli, ma Leo Fender incomincia a realizzare la sua prima chitarra, partendo prima da delle stile didattiche, e poi un po' alla volta incomincia a realizzare proprio uno strumento a sei corde, con le altezze giuste, con le action giuste, e incomincia nel 1947-1948, sono quelli gli anni in cui incominciano a realizzarsi questi body un po' squadrati, queste tavole un po' senza forme troppo arrotondate, manici grossi, si dice più a V, si dicono più a U, più a manico di baseball, dopo ci sono le varie variazioni sul tema che hanno realizzato, elettroniche, controlli, tutto molto semplice oggi, ma all'epoca rivoluzionario, perché? Perché non c'erano chitarre normalmente con quattro viti, perché? Perché all'epoca Bigsby, che aveva realizzato anche lui una chitarra che aveva molto in comune con Fender, cioè le sei meccaniche in linea, le varia realizzate in un corpo unico, un extra body, se no c'era un chitarre jazz, hard stop, c'erano altri tipi di strumenti, adesso facciamo riferimento a Gibson, tanto bene o male i marchi sono questi, e Gibson aveva tutto un altro tipo di percorso, Fender lavorava anche con Les Paul, Les Paul che per noi è stereotipo del prodotto Gibson, del Fender, è bellissimo pensare che in un momento di rinascimento musicale elettrico o nascita o battesimo forse, perché all'epoca era proprio il battesimo, tutte queste menti parlavano tra di loro, ascoltavano i musicisti e tac, sparavano idee e prodotti, amplificazione perché nasce come elettrotecnico, amplificazione ma anche inventare uno strumento, uno strumento a corda. E la prima parte della storia della Fender è proprio questo, uno strumento, una tavola, una tavolozza secca, le sellette regolabili per le intonazioni, il manico estraibile, c'è chi dice sia dovuto alla scelta di poter sostituire i manici, perché all'epoca le bande andavano in giro, stavano fuori con i pullman mesi e mesi e mesi e non tutti potevano avere i tasti sostituiti dal giutaio di turno e quindi era un'idea quella di cambiare il manico, cosa che non è mai poi avvenuta nei fatti, però sempre questa idea da inventore per voler creare, accontentare, creare e accontentare. Questo quindi è un po' l'inizio della storia di Leo Fender, quindi che nei primi anni 50, tra fine anni 40 e anni 50 comincia a produrre questi strumenti dalle forme più semplici, fino ad arrivare, e non possiamo fare a meno di prenderla fuori, alla regina con forme arrotondate, morbide, smussate, che è la Stratocaster, quindi un'evoluzione del prodotto base, un aumento di microfoni, a partire dal 54, che è l'anno in cui nasce ufficialmente la Stratocaster, quindi primo periodo possiamo raccontare i primi anni 50, 51, 52, Telecaster, anzi Broadcaster, che diventa per un certo periodo nocaster, perché Broadcaster, ricordiamo, era il marchio di una serie di batterie della Grecia, quindi una grande diatriba tra Grecia e Fender sul nome, per cui per un po' eliminano il nome Broadcaster dalle prime chitarre, che diventerà nocaster perché non aveva nessuna scritta, e successivamente, proprio in onore della televisione, ripeto, ricordiamo la storia, ritorniamo indietro, stiamo fino agli anni 40, primi anni 50, quindi incomincia ad arrivare le televisioni, il boom economico, il dopoguerra, piccoli inediti anche qua, si tratta di un momento in cui in California c'è una grande immigrazione, arrivano circa 500.000 persone all'anno, c'è il piano Marshall, c'è una grande voglia di esportare cultura americana, non pensiamo a Capitano America e tutto il resto, però è un momento, bisogna proprio entrare nella storia per vendere questi strumenti, ne parleremo dopo, ma queste forme tutte arrotondate hanno un che di aeronautico, hanno un che di Cadillac, hanno un che, hanno dei design che ricordano i prodotti del periodo. E quindi lasciamo le offender in questa prima puntata nel passaggio tra Esquire, Nocaster, Broadcaster, Telecaster a Stratocaster e vi aspettiamo alla prossima puntata per proseguire il nostro percorso sulla storia, la vita di Leo Feder. Un saluto a tutti, vi aspettiamo per la prossima puntata, grazie. Ciao.